Ciao ragazzi, siccome in questi giorni di lockdown ho potuto leggere opinioni e voci contrastanti e alle volte assurde, devo dire, sulle limitazioni dei diritti costituzionalmente garantiti da parte del governo, voglio fare un breve video per cercare di rendere più chiara la situazione a livello giuridico e mi astengo da giudizi e opinioni prettamente politiche. La nostra meravigliosa Costituzione, approvata a dicembre del 1947, garantisce ai cittadini tutta una serie di diritti che possiamo riassumere negli articoli che vanno dall'1 al 54. Quelli che però ci interessano in questo momento di articoli sono solamente due e andiamo adesso a leggerli meglio per capire. Il primo articolo da leggere è l'articolo 32, inserito all'interno dei rapporti etico-sociali. Leggiamolo. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Ecco, il primo elemento da prendere in considerazione in questo momento è che la salute non è considerata solamente un diritto dell'individuo, ma anche un interesse della collettività. E questo cosa ci permette di fare? Ci permette di inserire il diritto alla salute all'interno di un bilanciamento dei diritti costituzionali. Questo cosa vuol dire che se in una situazione di normalità il diritto della salute in un bilanciamento viene sempre meno dei diritti individuali di libertà, in questa particolare situazione di pandemia l'interesse generale alla salute pubblica certamente, su questa ipotetica bilancia, ha molto più peso di quelle che sono invece le libertà individuali dei cittadini. Questo ci appare ancora più evidente se noi non intendiamo le libertà esclusivamente come una garanzia da parte dello Stato a non intromettersi negli affari privati dei cittadini, ma al contrario la intendiamo come il comportamento attivo dello Stato di garantire che quei comportamenti che sono un'esplicazione delle libertà individuali possano essere compiuti in piena sicurezza. Ad esempio, non può realmente essere garantita la libertà di manifestazione pubblica, quindi di ritrovarsi da parte dei cittadini in un luogo pubblico per manifestare le proprie idee, se lo Stato non garantisce la sicurezza stessa dei manifestanti, in questo caso la sicurezza della propria salute. In questa ottica, dunque, la salute come valore costituzionale assume un peso maggiore di ogni altra libertà individuale. Il secondo articolo che dobbiamo andare a vedere è l'articolo 16, che ci parla della libertà di circolazione. È inserito all'interno dei rapporti civili, in cui sono inseriti una serie di altri articoli che sono strettamente legati alla libertà di circolazione. Parliamo della libertà individuale, della libertà e segretezza della corrispondenza, della libertà di domicilio e dell'inviolabilità del domicilio, il diritto a riunirsi dei cittadini, il diritto di associarsi e il diritto di professare la propria fede. Ognuno di questi diritti, in una maniera o nell'altra, comprende comunque la possibilità e il diritto del cittadino di muoversi dalla propria abitazione, soprattutto nel diritto di circolazione, ma anche negli altri, per esplicare tutti quelli che sono i propri diritti. È evidente che uno deve potersi spostare di casa per manifestare, deve potersi spostare di casa per pregare all'interno di una chiesa e per riunirsi in un'associazione. Detto questo, andiamo a leggere l'articolo 16, andiamo a vedere cosa i costituenti ci dicono. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. I nostri costituenti hanno previsto dunque che la libertà di circolazione possa essere limitata nei casi di sicurezza o di sanità. In questo caso noi, il nostro governo, ha applicato la restrizione della libertà di circolazione per motivi di sanità. Ovviamente questa restrizione nella libertà di circolazione come anello di una catena più grande di diritti va a limitare anche tutta un'altra serie di diritti. E quali sono i motivi di sanità che il governo ha utilizzato? Quelli previsti dall'articolo 32 che abbiamo letto prima, ovvero la salute pubblica come interesse della collettività. I nostri padri costituenti, pur prevedendo una possibilità di limitazione dei diritti costituzionalmente garantiti, memori dell'esperienza del fascismo, hanno sempre imposto al legislatore, al governo, tutta una serie di limiti ben precisi nel poter appunto limitare i diritti. E in questo caso noi andiamo a leggere che le limitazioni che la legge stabilisce in via generale, i padri costituenti qui hanno inserito quella che nel diritto costituzionale si chiama una riserva di legge ordinaria. Ma che cos'è una riserva di legge ordinaria? Una riserva di legge ordinaria è una garanzia di democraticità che i nostri costituenti hanno voluto in tutta una serie di situazioni molto delicate per il funzionamento dello Stato. Ciò vuol dire che solo attraverso una fonte di rango primario si possano regolare, normare determinate situazioni. Quali sono le fonti di rango primario? La legge, il decreto legge e il decreto legislativo. Perché i costituenti hanno scelto le fonti primarie? Perché le fonti primarie, a differenza delle fonti secondarie del diritto, che sono magari alcuni tipi di regolamenti, sono le uniche che sono controllate in maniera estremamente rigida dal Parlamento. E il Parlamento è l'unico organo direttamente rappresentante del popolo italiano attraverso le elezioni. Dunque il Costituente ha voluto garantire che, ad esempio in questo caso, la limitazione della libertà di circolazione sia sottoposta prima o dopo ad un rigido controllo del Parlamento e quindi del popolo, che sostanzialmente limita se stesso. Ma qual è stato poi lo strumento effettivamente utilizzato dal Governo in questa situazione? Beh, lo strumento che il Governo ha utilizzato è il decreto legge. Ma perché il decreto legge e non, ad esempio, una legge ordinaria? Perché il decreto legge esiste per quelle situazioni di estrema gravità ed urgenza che necessitano di un intervento immediato. La legge ordinaria, per quanto possa essere approvata con celerità, ha bisogno di quei tempi che il Parlamento necessita per portarla fino in fondo alla sua approvazione. Può necessitare almeno giorni, se non settimane o mesi. Quindi in una situazione di gravissima necessità, il Governo è autorizzato ad emanare dei decreti legge. L'articolo 77 ci spiega cos'è un decreto legge. Un decreto legge è un documento che viene approvato dal Governo senza né delegazione né autorizzazione da parte delle Camere. Quindi in un processo che salta completamente la rappresentanza popolare. Questo però è necessario proprio per quei motivi straordinari di necessità e urgenza che ci indica l'articolo 77. Ciò non vuol dire però che il decreto legge non sia sottoposto a un controllo popolare, ma il controllo viene posticipato. Perché prima si ha la necessità di regolare una determinata situazione e poi si dà la possibilità al Parlamento e quindi al popolo italiano di verificare che il Governo nell'adottare un decreto abbia seguito quei principi di garanzia dei diritti, di democraticità, che uno Stato come una Repubblica democratica deve attuare. Ricordiamoci però che come tutte le fonti di rango primario e secondario il decreto legge, prima che sia pubblicato in gazzetta ufficiale e quindi abbia i suoi effetti, deve essere firmato dal Presidente della Repubblica, che è il garante della democraticità dello Stato. Quindi se anche viene sorpassato il Parlamento nell'approvazione del decreto, vi è comunque la garanzia del Presidente della Repubblica attraverso la sua firma che questo decreto non sia effettivamente un atto autoritario, altrimenti il Presidente avrebbe il diritto ed il dovere di rifiutarsi di firmare il decreto. È stato poi il decreto legge del 23 febbraio che ha istituito le vere misure di contenimento nei comuni del Veneto e della Lombardia e che al suo interno, all'articolo 3, ha previsto che con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi fonti secondarie ma autorizzate da un decreto, quindi da una fonte primaria, queste misure potessero essere estese e in effetti il 9 marzo il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha esteso le misure di contenimento su tutto il territorio nazionale. I DPCM, che Conte ci ha abituato a sentire durante le sue conferenze stampa, sono giustificati dal decreto legge, il quale è giustificato in forza dell'articolo 77 e in applicazione nel caso dell'articolo 16 della Costituzione e quindi non sono assolutamente da considerarsi autoritari, ma semplicemente come ultimo anello di una catena. Ultima considerazione. Le limitazioni delle libertà individuali, tra cui libertà appunto di circolazione e tutte le altre, da che la Costituzione è entrata in vigore il primo gennaio del 1948, non sono mai, mai, mai state applicate sino ad ora. È dunque questa una situazione straordinaria ed incredibile anche dal punto di vista giuridico, perché per la prima volta sono apparse limitazioni di questo tipo ed ovviamente sono apparse nel rispetto di tutte quelle norme che la Costituzione prevede perché si possa arrivare a determinate limitazioni. È evidente però che queste limitazioni non sono state prese in virtù di un qualche interesse all'autoritarismo da parte del governo, ma solo nell'interesse della tutela della salute e di tutte le altre libertà che potranno essere nuovamente garantite soltanto quando la situazione di incolumità per la salute della popolazione saranno cessate. Con questo io concludo, spero di essere stato utile e per qualunque domanda ovviamente potete commentare qualunque cosa. Un saluto a tutti.